Siamo con Matteo Carpanetto, l'estremo difensore della squadra Materasso. Innanzitutto, questa prima di parte di campionato, che cosa te ne è parso? Beh, squadre abbastanza equilibrate, come tra soltanto una o due forse, veramente al di sotto. Per il resto, prendiamo sempre un gol di troppo, quindi cercheremo di provvedere. Che tipo di ruolo è il ruolo del portiere? Un incubo. Se sbagli, è gol, punto. Se fai bene, non lo notano? E chi sbaglia davanti, poi ha occasione di rifarsi. Tu invece parti già da meno uno, ecco. Da questa seconda parte di campionato, che cosa vi aspettate? Punti. Quelli che sono mancati all'andata.